La consapevolezza, l'arte del vedere. Il più grande atto che l'essere umano può imparare è vedere ciò che sta accadendo dentro se stesso. Il viaggio spirituale inizia con la consapevolezza di dove sei, non con l'ossessione di dove vorresti essere. La perfezione è nell'essere in armonia con ciò che accade dentro di te. Quando non sei consapevole reagisci. Shri Amma Bhagavan Tvameva Sarvama Devadeva Tvameva Matacatita Tvameva Pandusha Sakha Tvameva Pandusha Sakha Tvameva Pandusha Sakha Tvameva Pandusha Sakha